Bruna! Cucciola tra i cuccioli! Cucciola tra i cuccioli! Nooo! L'orecchio è girato! Scusami, vai da lei, fai un po' la modella con Bruna! Perché tu hai la coscia come la teneva lei? È perché c'è il cane in mezzo! Tetris tra i cuccioli! Eh vabbò! Stai spostando? Sì! Sì! Quando viene schiacciata! Non so, giustamente! Si difende, hai ragione! Hai ragione! Bella! Scodinzola! Chiara, spostati un pochino di qua! Sì! Intanto vedi se puoi prendere in altre cose questi... ...divenuti! Sì! Un po' pesante! Un po' pesante! Un po' pesante! Un po'! Un po'! Un po' pesante due! Mamma mia musona! Ma dato che stanno tutti fermi, singolarmente riesci a prenderli... Ma prendete anche quei due! Metteteli insieme! Insolati! Che sento singolarmente? Non ho capito! Che sento... Non lo... Sì! Non l'ho già presa! 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 Sì! 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 Grazie.